Salve a tutti, sono Anna Maria Danieli e oggi vorrei parlarvi dei vantaggi di essere associati a CNA pensionati. Il primo dei quali è la compilazione del modello fiscale 730. Il modello 730 da noi, per i nostri associati, è completamente gratuito e siamo l'unica associazione a Roma che ha scelto di offrirlo gratuitamente ai propri associati. Compreso nel prezzo della tessera, la polizza infortuni con Unipol copre interamente 24 ore su 24 da infortuni che avvengano sia dentro che fuori casa. Sempre con Unipol abbiamo una polizza per coprire lo scippo e la rapina nel momento in cui si va a prelevare la pensione nel giorno in cui si è in pagamento, anche se si ha l'accredito in vacca. Compreso nella tessera CNA anche le convenzioni di CNA Servizi Più. Ci sono tantissime aziende in convenzioni con CNA Servizi Più, dei quali pensionati possono usufruire. Vi faccio un esempio. Le riviste Mondadori. Abbiamo uno sconto che va dal 50 all'80% sull'abbonamento annuale. Quindi ad esempio Sorrisi e Canzoni TV piuttosto che Focus si può pagare la metà o ancora di meno di vende dalla percentuale di sconto. Sconto per acquisto auto che sono piccole percentuali ma su importi decisamente importanti per l'acquisto di un'auto. Quindi ci sono in convenzione la Nissan, la Citroen, la Hyundai e ad esempio la Hyundai fa un 3% di sconto dopo aver ottenuto il miglior prezzo con il concessionario. Inoltre riceverete a casa una rivista che si chiama Verde Età, una rivista bimestrale che comprende i vari argomenti di attualità e anche le attività che fa proprio l'associazione stessa per farvi capire che cosa facciamo su tutto il territorio nazionale. E in ultimo, ma non è l'ultima cosa perché i vantaggi ce ne sarebbero ancora da elencare. Abbiamo delle convenzioni con associazioni per offrirvi visite guidate, gite giornaliere, soggiorni estivi ma anche grandi viaggi a costi convenzionati. Spero quindi di avere testato un po' di curiosità se vorrete approfondire anche gli altri vantaggi e potrete telefonarmi o scrivere alla mail ai contatti che vedete qui sotto in sovraimpressione. Vi aspetto!